benvenute a tutte e tutti mario mi ha lasciato un bel fardello per essere qui con questi due ospiti molto importanti un testimone in diretto dell'evento alex aveva tre anni quando c'è stata la strage però poi nel corso del tempo si è appassionato all'evento l'ha studiato ha realizzato la sceneggiatura per questo fumetto che presentiamo stasera è realizzato un podcast molto interessante anche con la partecipazione di lucarelli che poi invito tutti comunque a seguire quindi lui si è immerso in questa storia la vede da testimone in diretto e poi una testimone diretta che purtroppo ha incrociato il suo destino con questo evento tragico nel presentare la serata credo sia doveroso fare un attimo di contestualizzazione storica il 2 agosto 1980 lo conosciamo tutti l'evento credo che nessuno in sala però conosca tutto quello che è successo prima e tutto quello che è successo dopo un evento molto complesso sia a livello internazionale che a livello nazionale c'è questo libro in più che non è la presentazione strage mandanti di paolo bolognesi il presidente attuale dell'associazione fra i familiari delle vittime di bologna che da un panorama molto interessante articolato che sicuramente contestualizza l'evento parte dal 43 giusto per farvi capire quanto la vicenda si è radicata all'indomani dell'accaduto del fascismo quando gli americani incominciano l'occupazione dell'italia dal sud e quando nell'italia settentrionale nasce la repubblica sociale quindi il fascismo si trasforma ovviamente non possiamo ripercorrere tutti i passaggi però a livello internazionale bisogna dire che siamo nell'ottanta siamo in un periodo di guerra fredda molto intenso due schiariamenti che si che si contrappongono abbiamo avuto prima i golpe ci tengo a citare il golpe della grecia del 67 il golpe del cile del 73 il golpe dell'argentina del 76 sono tre golpe che indirettamente influenzano il dibattito in italia il dibattito politico e leggendo nei libri ci sono anche connessioni tra le versioni nera e alcuni di questi episodi ne cito uno proprio del 75 a roma un esule cileno del partito democristiano viene ferito da un attentato da un terrorista di destra quindi comunque c'è una correlazione tra questi eventi in italia ci si può chiedere se nel 70 ci fosse la possibilità di un golpe non lo sappiamo penso nessuno storico possa dare questa risposta è chiaro che nel 70 quando giulio borghese nel dicembre poi negli anni successivi qualcuno idea dei golpe sicuramente ci sono delle persone che li pensano li disegnano magari non si sarebbe potuto realizzare non si è realizzato ma c'è una parte di stato una parte di eversione che pensa quello e probabilmente la stessa parte contigua che andrà poi ad agire a bologna venendo all'italia giusto per contestualizzare bologna dobbiamo pensare alle tre grosse stragi di matrice fascista quella del 69 piazza fontana 74 abbiamo due stragi nel giro di pochi mesi piazza della loggia ha un corteo di sindacalisti quindi proprio politicamente connotato e poi il trion dell'italicus il 4 agosto del 74 il 9 agosto nixon si dimette qualche analista dice che la strage dell'italicus probabilmente avrebbe avuto altri esiti autoritari se non ci fosse state non ci fossero state e poi le dimissioni di nixon quindi comunque lo scenario italiano va anche contestualizzato le tre stragi sono in un periodo molto concentrato sono nel periodo d'intensa guerra fredda poi ci sarà un momento di istensione tre stragi di due si sono individuate alla matrice ma non ci sono dei condannati quella di milano e quella dell'italicus nella strage di piazza della loggia di brescia invece ci sono dei condannati sempre di matrice nera arriviamo a bologna quindi sono passati sei anni dal 74 e di nuovo siamo un momento di intensa conflitto tra i due blocchi c'è tensione per l'afghanistan per l'invasione dell'afghanistan c'è tensione per sul mediterraneo ci sono due eventi che spiazzano italia c'è ustica e c'è bologna ustica un fatto decisamente un fulmine a ciel sereno però comunque poi le indagini ancora oggi ne fanno parlare perché non si sa bene cosa sia successo e poi bologna la differenza tra sostanziale fra ustica e bologna e ustica è appunto un cielo un fulmine a ciel sereno bologna probabilmente pensata e poi magari alex ci dirà come si può pensare che fosse stata pensata ma per entrambe le due stragi nascono dei meccanismi di depistaggio queste questi due eventi sono accomunati da questa stessa storia di depistaggio in tutto questa complessità arrivano sceneggiatore di fumetti e decide di semplificare la storia su un fumetto e qua ci chiediamo con quale forza e con quale ispirazione hai semplificato in immagini in narrazione che quella del fumetto ovviamente semplificata rispetto a un libro come può essere quello di Paolo Blognesi un evento così complesso dove solo ad elencare le sigle della versione nera ad elencare le sigle dei dei reparti dello stato dei dediti a servizi e di servizi faremo un elenco potremmo stavolta la sera a parlarne grazie giovanni innanzitutto buonasera a tutti grazie per essere qua per me non è diciamo così un evento nuovo quello di presentare questo fumetto perché la cosa che tengo a specificare fino a subito che è un fumetto datato e non siamo quindi di fronte a una classica presentazione di un prodotto editoriale appena uscito e quindi ne stiamo facendo la promozione no assolutamente la prima edizione di questo fumetto e poi vi spiegherò perché è importante anche questa datazione è del 2006 questo fumetto ha avuto diverse ristampe e soprattutto diverse edizioni e siamo arrivati ad averne un'altra recentemente con i dovuti adeguamenti naturalmente nella parte di cronistoria che ha corredo del fumetto e quello di cui vi vorrei parlare questa sera non è tanto della genesi di questo prodotto editoriale quanto della sua storia appunto dal 2006 ad oggi e come questa storia in realtà abbia un'importanza che è assolutamente equiparabile all'importanza della sua genesi cioè la sua storia dal momento della pubblicazione in poi è stata molto importante per ai motivi innanzitutto perché decidere di approfondire una vicenda io sono uno storico quindi è uno sceneggiatore quindi è chiaro che mi sono posto come diceva Giovanni il tema come fare a raccontare una vicenda così complessa attraverso un linguaggio che almeno nel 2006 adesso è più diffuso però attraverso un linguaggio che per alcuni poteva sembrare non appropriato che è il linguaggio del fumetto che insomma a parte la diciamo tradizione francese della graphic novel in Italia non aveva mai avuto un grande una grande tradizione il fumetto era generalmente un linguaggio letterario di intrattenimento allora innanzitutto la vicenda è complessa come storico lo so ma non è complicata che è diverso nel senso che la complicazione generalmente lo strumento è lo strumento che viene utilizzato impiegato da chi vuole in maniera sistematica cercare di svilire e sminuire quelle che sono state le conquiste io le chiamo così o comunque le verità raggiunte attraverso un percorso giudiziario che è durato 40 anni quindi è complicato secondo me cercare di come dice Benedetta Tobagi durante il podcast la conversazione che ha fatto con me ecco è complicato quando si vuole avvelenare i pozzi lì la vicenda diventa veramente complicata e qui sto parlando del depistaggio cioè sto parlando di quella situazione in cui spesso e volentieri gli sciacalli creano molti più problemi dei lupi è una cosa che fra l'altro scrive Gian Antonio Stella nella postfazione del libro quindi sì è una vicenda complessa ma non complicata perché non è complicata perché innanzitutto tutte le vicende sono complicate e raccontarla attraverso il linguaggio del fumetto della letteratura tradizionale della saggistica del cinema comunque richiede una capacità di selezionare quelli che sono gli elementi importanti e che possono fare capire al lettore come si è sviluppata la vicenda quindi innanzitutto il primo tema che mi sono posto è come essere il più possibile onesti intellettualmente nell'affrontare una vicenda di questo tipo quindi la risposta che mi sono dato è stata questa raccontando la vicenda rispettando quello che è il percorso giudiziario dopodiché dire perché è molto più facile secondo me è stata la pista palestinese secondo me è stata la pista franco tedesca secondo me quando si esige serietà nell'affrontare lavoro letterario non funzionano non servono a niente quindi io mi sono posto subito il problema di affrontare con serietà la vicenda di interpellare l'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna e quindi di parlare immediatamente con il presidente attualmente in carica anche allora lo era Paolo Bolognesi e nel rispetto del dolore delle vittime chiedere se avessi potuto affrontare una vicenda del genere e ho voluto condividere immediatamente la mia chiave cioè che cosa qual era l'operazione che io avrei voluto fare con questo fumetto cioè non voglio solamente fare ho detto a Paolo me lo ricordo bene un lavoro di tipo didattico cioè comunque è un oggetto chiamiamolo così artistico di narrazione quindi c'è bisogno anche che sviluppi tutte quelle che sono le classiche caratteristiche quindi chiaramente l'investimento emotivo la costruzione narrativa la chiarezza sapere dove dovevo andare a parare sostanzialmente però lo volevo fare rispettando il dolore delle persone che ancora stavano vivendo e che ancora stanno vivendo un dramma che in realtà molti sperano di ascrivere a quella che è la bolla sostanzialmente di cristallo della storia ma fare capire che è una vicenda viva e qua arriviamo nel 2005 2006 dove il percorso giudiziario chiaramente era ancora in corso per farlo grazie all'associazione poi a tutti gli amici perché poi sono diventati tutti i grandi amici dell'associazione chiaramente ho avuto la possibilità di fare una prima grande operazione di verità o comunque di onestà intellettuale come vi dicevo prima e cioè quella di leggere gli atti processuali che è quello che normalmente non si fa è quello che i giornalisti quando fanno un articolo non fanno è quello che molti opinionisti quando dicono il secondo me di qui sopra non fanno perché perché è molto dispendioso leggere duemila tremila quattromila pagine dati processuali tu dici ma come ma per un fumetto tutto questo sbattimento sì proprio perché è un fumetto e perché come dicevo prima rispondendo a giovanni qua stiamo parlando di complessità non di complicazione allora per affrontare la complessità ci vuole chiarezza non complicazione ulteriore e per fare questa operazione bisogna documentarsi bisogna andare a isolare quelle che sono i frame i momenti davvero importanti metterli in fila e raccontare una storia e adesso chiudo che ha bisogno di tre elementi il primo elemento lo studio e l'analisi l'abbiamo detto il secondo elemento entrare in punta di piedi nella vita personale emotiva delle persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente questa vicenda dal punto di vista umano il terzo grande elemento fare capire magari a chi allora non c'era che poi è quello che un po' Giovanni nell'introduzione ha fatto fare capire qual era il contesto quindi la vicenda umana la vicenda giudiziaria ma la vicenda storica è molto importante per capire che non è un secondo me ed è per quello che come dice Carlo Lucarelli per affrontare una vicenda così complessa e per evitare che diventi complicata è necessario che venga affrontata da tanti punti di vista ed è necessario e questo l'associazione lo sa bene che il lavoro per avvicinarsi alla verità non si è fatto solo dai giornalisti non si è fatto solo dagli intellettuali non si è fatto solo dagli storici non si è fatto solo dai giudici o comunque degli avvocati o dai PM ma che si è fatto da tutti insieme ma per farlo tutti insieme è necessario capire che questa vicenda non è finita non è conclusa perché altrimenti non si continuerebbe ad assistere a continui depistaggi ogni volta che ci avviciniamo al 2 agosto del 1980 per la celebrazione cioè eppure succede regolarmente e sistematicamente perché? sai una cosa che fa parte delle guerre puniche o se parliamo del 376 o do Acre e inizia l'era antica o del 1492 inizia l'era moderna perché dovremmo avere paura di parlare del 1980 in cui gli storici fanno finire invece quella che chiamano strategia della tensione che generalmente fanno iniziare nel 1969 perché dovremmo averne paura? perché bisogna continuare a mettere in dubbio quello che è un percorso giudiziario lunghissimo e dolorosissimo per i familiari delle vittime perché non è guardare un giorno in pretura andare ogni volta e Sonia ce lo racconterà dentro delle aule di un tribunale e sentire che su quella ferita qualcuno continua a gettarci dei cucchiai di sale non è semplice eppure è successo per tanti anni allora c'è bisogno un po' di tutti ma c'è bisogno della volontà di capire e non della volontà di avvelenare i pozzi come purtroppo spesso sta accadendo e fare un fumetto di questo tipo significa anche dire ai ragazzi ai miei figli ai nemici dei miei figli e a tanti altri ragazzi voi siete qua adesso e siete liberi e vivete in un regime democratico però siamo sempre dobbiamo sempre stare attenti perché nulla è scontato la democrazia è una parola ma se non va coltivata non è qualcosa che ti mette al sicuro per forza bisogna essere informati avere capacità critica e approfondire queste cose che voi pensate che siano parte della storia ma in realtà non lo sono assolutamente sono parte della vostra vita e probabilmente sono parte del vostro futuro e questo Sonia per esempio nel suo libro e ti lascio la parola a Giovanni e la lascio soprattutto a Sonia il motivo per cui sono molto orgoglioso di averla qua siamo amici ci conosciamo però ecco Sonia l'ho conosciuta anni dopo che io ho iniziato a fare questo lavoro con l'associazione e vi spiegherà lei il perché perché Sonia nel suo libro parla non dicendolo espressamente proprio di questo tema il tema del tempo perché il tuo libro Sonia parla del tempo non parla della strage di Bologna in sé parla del tempo ed è il tempo che una persona che vive una cosa del genere un dramma del genere impiega per metabolizzarlo impiega per risolvere le proprie ferite emotive e fisiche impiega per ricostruirsi una vita impiega per capire se un giorno riuscirà a riaffrontare quel tema e impiega per capire che un giorno sì lo puoi fare e lo puoi fare come lo stai facendo tu come vicepresidente dell'associazione è un tema che parla è un libro che parla del tempo come tema principale e il tempo forse è il tema di questa serata assolutamente sì ho presentato tanti libri in questi anni ho presentato libri di storia di arte di sociologia e forse questa è la prima volta che presento un libro una biografia e devo dire che solitamente quando si presenta un libro come potrei fare solamente per quello di Alex si cerca di portare i motivi della novità per attirare il pubblico che bello questo libro magari me lo compro nel caso invece del libro di Sonia avrei voluto che voi fosse arrivati qua già avendolo letto per capire l'intensità dell'esperienza e la forza che ci sta dietro a questo percorso quindi veramente ringrazio Sonia l'abbiamo ringraziata di essere qui a Torino a parlarci della sua esperienza è uscita un'intervista oggi su Torino 7 che probabilmente qualcuno ha già letto per contestualizzare però appunto Sonia era una ragazzina di undici anni e come noi al tempo io ne avevo dieci sognava le vacanze sognava le montagne lo sci la nonna Lina nell'appennino toscemigliano e poi per un caso della vita si trova in quella maledetta situazione in cui quell'oggetto giallo che vediamo nella copertina che Alex rappresenta di giallo quella borsa contiene una bomba e cambia la vita di tantissime persone tra cui quella di Sonia quindi Sonia come vuoi iniziare a parlare di te questa sera? Intanto buonasera a tutti e grazie di questo invito grazie a Mario grazie a Giovanni e grazie ad Alex dopo tutte queste parole che sono state dette sono più emozionata del solito devo dire la verità perché non è semplice ne parlo spesso ne parlo in diversi progetti ne parlo ai ragazzi ne parlo di serate eccetera non è semplice ma stasera veramente ancora più difficile perché l'amicizia a volte non sempre aiuta in questo caso e allora come ne voglio parlare intanto voglio dire che con Alex è questa amicizia che è nata dopo e inizio da questa parte qui la strage di Bologna mi ha cambiato la vita la strage di Bologna mi ha posto mille dubbi la strage di Bologna a un certo punto mi ha bloccato e non mi ha dato la forza poi è arrivato un momento in cui ho dovuto fare una scelta e sono riuscita da quel giorno a trarne qualcosa di positivo non avevo tanta alternativa e Alex è una di queste cose io e Alex veniamo praticamente dallo stesso posto dall'Alto Adige con Zannini non ci siamo mai visti abbiamo un amico in comune che ci ha fatto conoscere e da lì poi sono iniziate anche diverse collaborazioni abbiamo insomma diverse volte lavorato insieme e questa è una cosa positiva di quel 2 agosto 1980 perché poi alla fine io dico c'è sempre qualcosa di positivo nelle tragedie anche più grandi magari arrivano dopo come nel mio caso dopo 25 anni dopo 30 anni o come nel caso di altre persone anche dopo 40 anni però arrivano allora cosa posso dire di questo libro cioè nel senso che questo libro è nato così è la bozza di un percorso psicoterapeutico che io ho fatto dopo 25 anni da quel 2 agosto 1980 io avevo 11 anni e non dovevo essere lì quando io racconto la mia storia succede spesso che mi dicono ah no io sono passata il giorno prima io sono passata il giorno dopo io dovevo esserci ma non c'ero e io c'ero e non dovevo esserci assolutamente io quel giorno lì alle 10 e 25 avrei dovuto essere in viaggio per tornare in Alto Adige e avevo 11 anni avevo finito la quinta elementare abitavo ai tempi in Val Gardena e avevo una passione era lo sci io amavo sciare lo sci era la mia passione lo facevo a livello agonistico facevo anche delle cose assurde pur di poter sciare tipo andare sulle piste da sci con delle bufere con del gran freddo per una volta non c'erano tutti no? questi abbigliamenti tecnologici che ci sono adesso questo Tecnic Outfit e quindi magari c'erano meno 10 meno 15 gradi avevo questi scarponi pesanti questi sci andavo sulle piste mi battevo la mia pista mi mettevo nei palletti iniziavo gli allenamenti se giovedì una volta con il vento addosso però a me piaceva cioè io avrei fatto di tutto quell'anno lì ero passata di categoria e quindi io che avevo l'abitudine di trascorrere i tre mesi estivi negli apennini teosco-romagnoli di cui sono metà origine perché mio papà è originario di questo paesino quell'anno cioè quell'anno li dovevo rientrare prima le cose si facevano serie e avrei dovuto rientrare la settimana prima io ero da sola giù dai miei nonni paterni i miei genitori che lavoravano nel turismo avrebbero dovuto prendersi la briga di vendermi a prende per portarmi a casa mia cugina che abitava abitava abita tuttora a Imola 11 anni più grande di me come l'80% degli italiani in quel periodo il 2 agosto sarebbe andata in ferie no perché una volta si andava a ferie tutti in agosto giù i saracineschi chiudevano tutto l'Italia era morta ma la gente era in vacanza e lei si era offerta di accompagnarmi fa ma no tanto io vengo su quest'altra settimana la porto su io la Sonia così io compagnia la Sonia sta una settimana in più dai nonni voi non dovete venire ok bene alle 8.40 avevamo il treno da Bologna da Imola siamo arrivati a Bologna e noi siamo arrivati in realtà con un largo anticipo solo che arrivati a Bologna c'era già una grande confusione la stazione era già stipata di gente che si muoveva Bologna snodo per ovviare d'Italia chi da nord a sud e da estro doveva spostarsi doveva passare da Bologna per una volta c'erano molti meno macchine la gente si muoveva quindi perdi tempo a cercare il parcheggio entra questi tabelloni e il treno è sospeso e quell'altro è in ritardo e quell'altro non si trova il nostro che poi partiva dal binario 4 ovest noi montanari binario 4 ovest e allora cerco questo binario insomma abbiamo perso il tempo guardate sul binario nel momento in cui noi arriviamo al binario il treno ci parte sotto gli occhi i 30 secondi e mi cambiano la vita altra opzione cosa facciamo adesso andiamo a fare un giro per Bologna avevamo delle ore di tempo intanto abbiamo avvisato i nostri i miei genitori che avevamo nel pomeriggio nel mezzogiorno avevamo perso il treno e l'opzione era o partire il giorno dopo o andarsi a fare un giro a Bologna o fermarsi in stazione a Bologna e ospitare il treno caldo 40 gradi all'ombra come minimo secondo me a quel giorno affosimo io avevo un vestitino tutto fiorellini e un paio di giocolletti proprio così e no stiamo qua andati nel bar abbiamo preso un panino e ci siamo seduti in sala d'attesa alle 10.25 scoppiata la bomba noi eravamo lì per dire il destino no? quindi e da lì insomma è cambiata è cambiato il mio percorso percorso di vita c'è stato una deviazione un forte boato la luce accecante stanno girando un film gli occhi chiusi la sensazione di volare il volo che bello volare la libertà il mondo visto dall'alto toccare il cielo e le nuvole che bello le urla assordanti che rimbombano ad eco sempre più forti indefinite incomprensibili ed infinite la caduta gli occhi aperti il sogno della libertà è finito inizia l'incubo macerie polvere detriti la chiesa di San Giacomo urla caos e orrore non c'è più nulla distrutto tutto un sapore di polvere misto a quello della frittata in bocca voglia di sputare una sedia sopra la testa i vestiti strappati freddo tanto freddo cos'è successo? non si capisce più nulla aiuto voglio scappare cerco di svincolarmi di liberarmi ma non ci riesco la sedia sopra la testa me lo impedisce macerie e detriti mi tengono bloccata a terra ecco con queste parole sogna alla forza di raccontare quei momenti Alex descrive con disegni è più facile ma anche più intenso e voglio chiedervi delle cose perché c'è questa bomba gialla c'è l'orologio tutti abbiamo in mente l'orologio di Bologna l'orologio fissato alle 10.25 ma c'è una cosa penso straordinaria che noi sicuramente a Torino non sappiamo e i due libri entrambi ne portano testimonianza la popolazione di Bologna che immediatamente si mobilita per aiutare e nei disegni di Alex questo è un'immagine di un autista di un bus che vela con dei teli i cadaveri per dare dignità a quelle persone e tutti che si danno disponibili ad aiutare come ci racconti questa fase di Bologna e poi tu che l'hai vissuta cosa è rimasto nella storia di Bologna di questi momenti e questa straordinaria mobilitazione intanto mi dai l'occasione per per ricordare un altro nostro amico una persona importante che è Agide Melloni che era l'autista del famoso bus 37 simbolo insomma un pochino di di questa triste vicenda e che spesso viene con noi a parlare della sua vicenda personale delle sue emozioni della delicatezza che ha avuto perché chiaramente le ambulanze in quel momento dovevano essere a disposizione per i feriti per le persone che avevano bisogno di assistenza immediata e quindi per i morti non c'era questa necessità più e insomma adesso diciamo lui chiaramente questa storia la racconta meglio però la racconta sempre in maniera molto intensa molto emotiva però è una storia importante che fa capire quello anche che è il senso di una comunità una comunità che si mobilita immediatamente ha deciso di non solo di adibire quell'autobus per far sì insomma che potesse portare negli obitori delle città le salme ma la cosa che mi ha sempre colpito di Agide è la scelta che fece chiaramente di coprire quei cadaveri di non ammassarli in un pullman e piuttosto di fare più giri per evitare questa cosa noi a volte quando parliamo di una vicenda storica la viviamo in maniera assettica per quello che io prima dicevo c'è bisogno di tutti c'è bisogno di scrittori politici intellettuali storici perché questo è di testimonianze di persone che c'erano perché solo l'insieme di queste cose fa capire la reale dimensione di una situazione di questo tipo una persona che si prende cura di persone che non conosce che sono morte che cerca in qualche modo di ricomporle e che passa ore a fare questo tipo di operazione si dà il senso di una comunità e che può esistere una comunità che aiuta Bologna sia nel mio libro ma diciamo che ormai è universalmente riconosciuto in quel 2 agosto 1980 ma anche nei giorni successivi piccola parentesi biografica mia madre di Bologna i miei nonni sono di Bologna gran parte della mia famiglia di Bologna quindi ho respirato questa vicenda anche se sono nato a Bolzano da parte dei miei familiari e tutti mi hanno raccontato che Bologna in quel momento in quel giorno nei giorni successivi non è stata solamente una città ma è stato un protagonista di questa vicenda un protagonista ovviamente virtuoso perché chiunque si dava da fare delle signori che venivano a aiutare ma in una maniera composta e ordinata non con diciamo così la classica esteria che a volte si genera in dei momenti di panico e di terrore collettivo quasi come se si conoscessero tutti mi hanno raccontato questa cosa e chiunque a Bologna probabilmente non solo a Bologna sa esattamente quello che stava facendo nel momento esatto in cui è esplosa la bomba lo sa perfettamente possono essere dimenticate cose importantissime della propria storia personale familiare ma che cosa in quei minuti ognuno stava facendo se lo ricorda ogni Bolognese che era vivo allora e se provate a fermare un qualsiasi Bolognese si ricorderà esattamente questa cosa qua allora qui c'è stato un momento non previsto da chi aveva ordito questo atto terroristico e che doveva essere un po' la summa di una serie di altri attentati terroristici iniziati come vi dicevo prima da Piazza Fontana l'imprevisto è stata proprio questa comunità è stata proprio Bologna il fatto che una comunità parliamo di strategie della tensione quindi parliamo di uno strumento quello della paura della tensione che doveva essere un meccanismo in realtà per generare appunto una paura tale da non riconoscere più lo Stato come capace di poter difendere i propri cittadini la banalizzo così però quando gli storici parlano di strategie della tensione si parla di questa cosa qui e l'imprevisto è stata proprio la comunità la città di Bologna perché non è successa questa cosa qui è successo esattamente l'opposto e cioè la città si è unita la comunità si è stretta la comunità si è incazzata la comunità ha fatto difesa verso i suoi morti e verso l'ingiustizia che aveva appena subito la comunità in realtà si è unita ancora di più di prima e questo spesso quando si leggono articoli di giornale su questa vicenda dove si pone l'attenzione solo esclusivamente sui vari passaggi della vicenda giudiziaria è un tema che si perde a cui non si dà il reale valore ma in realtà è un tema cardine questo perché è chiaro che se nei minuti immediatamente successivi allo scoppio di una bomba si incomincia a parlare di caldaia e se ne parla per ore c'è un'operazione anche politica di depistaggio perché le prime ore dopo un evento del genere sono quelle in cui generalmente gli inquirenti acquisiscono più informazioni e dati possibili su quello che può essere successo su chi può essere stato o su chi in qualche modo era direttamente o indirettamente coinvolto nell'atto criminale chiaramente continuare a fare rimbalzare nei media di allora radio tv eccetera la notizia della famosa caldaia già dà un'idea perché la gente che era lì gente che aveva fatto la guerra anziani che avevano fatto la guerra l'odore della polvere da sparo la conoscevano bene una cosa che non si dimenticano non può dimenticare la memoria ma il naso non le dimentica e tutti dicevano che era polvere da sparo tutti dicevano quelli che anche abitavano mio nonno compreso peraltro che abitavano un po' lontano sentivano questo odore acre di esplosivo di polvere da sparo nessuno ha creduto lì a questa fandonia della caldaia però questa fandonia della caldaia ha consentito chiaramente che chi in quel momento era esecutore a materia della strage potesse avere il tempo per fuggire per non avere i posti di blocco per avere andare a cercare coperture già ampiamente organizzate molto prima eccetera 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 ecco questo non è complottismo questo è qualcosa che è stato verificato dal punto di vista giudiziario percorso giudiziario che peraltro è diciamo ha portato molto recentemente a delle conclusioni molto importanti senza adesso entrare nella vicenda attuale adesso sappiamo come era composto il commando ci sono state condanne definitive ci sono stati dei condannati che adesso sono a piede libero ci sono e parlo chiaramente di Valerio Fioramanti di Francesca Mambro che sono ufficialmente nullatenenti perché così non devono risercire i familiari delle vittime però sono stati in grado di acquistare una casa per la loro figlia per esempio con i soldi di chi non si sa ma il silenzio sappiamo tutti costa molto caro spesso arricchisce anche le tasche ci sono dei condannati che adesso sono in carcere dei condannati come Paolo Bellini Primo Lanera che ha sostenuto di essere totalmente strano alla vicenda nonostante fosse riconosciuto dalla moglie da dei frame ma che una volta condannato comincia a minacciare il figlio del giudice che l'ha condannato e la ex moglie che l'ha riconosciuto tuttora parliamo di robe non del 1980 parliamo di cose dell'altro ieri quindi stiamo parlando di una vicenda appunto viva che ancora spaventa molte persone e che io nel mio diciamo così graphic novel fumetto che dico a Giovanni non è un linguaggio che semplifica perché il fumetto in realtà ha un valore che a volte non hanno altri libri io scrivo romanzi d'altro mondo lo sai quindi riesco a vedere queste differenze siccome il fumetto potrebbe essere più utile per affrontare questi temi perché ha una capacità quella dell'immagine che è l'evocazione cioè quando non tutto si riesce a descrivere a scrivere quando non si vuole annoiare tediare il lettore che a un certo punto non ce la fa capire quello che tu appunto chiami complicazione ecco che si può affrontare la complessità attraverso l'evocazione del disegno perché il disegno può raccontare con dei frame in un certo modo in un certo modo posizionati o costruiti in base allo spazio della pagina in base alle chine in base all'effetto emotivo può costruire delle narrazioni che vanno che scappano dalla pagina fuggono dalla pagina scivolano via perché ti rimangono addosso e questa cosa permette di replicare sostanzialmente la riflessione il pensiero emotivo il collegamento che ti eri perso ma che in realtà c'era quindi ecco quello che voglio dire è che la vicenda è molto complessa c'è bisogno di un fumetto sicuramente ma non solo c'è bisogno di un libro certamente ma non solo c'è bisogno di un percorso giudiziario assolutamente ma non solo c'è bisogno di indignarsi ancora come comunità rimanendo coesi così come fece la comunità di Bologna allora c'è bisogno come comunità di respingere con forza i continui tentativi di depistaggio mediatico che vengono continuamente fatti qualcuno mi potrà dire come dicevo prima sulla pista palestinese ha avuto un percorso giudiziario le altre strade che continuano ad essere paventate hanno avuto dei seguiti giudiziari con dei nulla di fatto allora se siamo qua a dirci che 40 anni di storia giudiziaria fondamentalmente non sono serviti a nulla perché tanto secondo me ecco non siamo più quella comunità unita che è stata Bologna e che ha fatto cadere e finire storicamente politicamente e realmente la strategia della tensione che è fallita è fallita però se noi reiteriamo continuamente il dubbio stiamo facendo un'operazione ecco qui sì che non ha onestà intellettuale ricordiamoci che la strategia di Bologna non è una cosa che viene decisa in dieci minuti alle nove di mattina del 2 agosto 1980 e questo è provato perché ci sono chiaramente delle testimonianze dai carceri carceri di di Padova con Presiglio che sono testimonianze bollate mesi prima archiviate negli archivi del SISD e del SISMI e anche della Polizia Ordinaria cioè ci sono tanti dati talmente addentro si sta parlando di due eventi di segnalazioni che giungono a delle autorità giudiziarie prima della strada in cui dicono sarà per succedere qualcosa a Bologna ecco lui sta dicendo questo ed è agli atti ed è dimostrato almeno due episodi significativi direi tre però adesso senza entrare nel tecnicismo nel meccanismo è importante capire questo passaggio ci sono degli annunci di questa stagione non è un fulminaciel sereno no assolutamente famose frasi a Bologna il 2 agosto succederà una cosa talmente grande che ne parlerà tutto il mondo addirittura cose molto più specifiche che sono state date all'avvocato da parte di Presiglio nella casa secondaria di Padova che sono ancora più circoscritte ma al di là di queste cose qua qua dobbiamo fare comunità e dobbiamo opporci questo è quello che volevo dire al depistaggio e per opporci serve anche utilizzare questi libri e le testimonianze di chi di chi questa cosa l'ha vissuta sulla sua pelle questo è sì rispetto a questi fatti è proprio imbarazzante capire come ci fossero stati degli annunci che non sono stati presi in considerazione e lui sottolineava l'importanza di una comunità che reagisce come dicevamo ci sono stati tre stragi tra il 69 e il 74 la strage di Bologna è isolata per le caratteristiche la matrice dell'80 e probabilmente chiude un periodo come diceva lui la strategia di attenzione ne apre poi un altro quindi lì poi avremo di nuovo scusatemi la parola di nuovo ma quando penso a Portella della Ginestra nel 47 penso all'inizio di un conflitto sociale in cui la mafia è un soggetto dopo l'80 avremo di nuovo le stragi mafiose stranamente ci starà nell'84 la bomba su un treno rapido 904 che è la prima strage mafiosa di nuovo di massa quindi chiude e apre la strage di Bologna è quindi proprio significativa e simbolica anche per questo punto storico probabilmente è stata talmente forte ed eclatante che ha dovuto chiudere anche da parte di chi probabilmente l'ha coperta certi scenari però poi ha aperto altri scenari perché oggettivamente quello che succede dopo non è altrettanto banale la comunità si sente anche Sonia la descrive bene Sonia dopo dopo appunto l'incidente passerà un anno terribile in cui le conseguenze fisiche della bomba le creano dei problemi continuativi quindi starà due mesi in ospedale verrà portata a Verona subito quindi sarà a Verona e poi ancora avrà una quantità di visite e di conseguenze che piano piano riuscirà poi a superare nel tempo però nel libro emerge significativa il senso di comunità il senso di condivisione e anche il rapporto anche con il personale sanitario e altre persone che incrociano negli ospedali non so se può essere un passaggio che voglia di approfondire o se andiamo oltre due cose mi allaccio al discorso di Alex sul fatto della comunità e della reazione di Bologna e se io oggi sono qui e posso raccontare la mia storia è perché dalla mia cartella clinica risulta che io dopo 20 minuti ero all'ospedale io ho rischiato l'amputazione di una gamba e perché avevo in mente lo diceva prima Giovanni cioè la mia idea quando mi sono ritrovata sotto la maciera circondata da queste urla strazianti a volte da questa nube di polvere e quindi la mia testa mi diceva sono nel posto sbagliato sono nel film sbagliato la mia idea era quella proprio di alzarmi scappare andarmene e da sotto le maciere si è avvicinato questo ragazzo che ha iniziato appunto a togliermi le maciere togliermi la sedia così e mi ha sollevato e io sempre con questa idea adesso sono in piedi e scappo e questa cosa non è stata possibile e lì ho visto la gravità una delle gravità fisiche che avevo subito che era quella appunto che il mio piede destro non c'era penzolava scusate è un po' macrava la scena ma è stato questo e probabilmente se mi fosse rimasta altri dieci minuti sotto le maciere sarei morta di sanguata quindi questo è una cosa Bologna si è movimentata noi lo raccontiamo sempre intanto quando voglio vedere anche quest'altra cosa quando parliamo della strage no? la strage è un per chi ascolta un contesto proprio assettico cioè noi parliamo di numeri 2 agosto 1980 ora 10 25 85 morti 216 feriti no intorno a tutto questo c'è il mondo gli 85 morti e sono tanti io quest'anno li ho letti non finiva non l'avevo mai fatto alla fine di una presentazione che ho fatto abbiamo letto i nomi io e la e la professoressa abbiamo letto i nomi non finiva più provate a dire 85 nomi uno dopo l'altro e poi consapevoli che state parlando di persone a cui è stato tolto il diritto di vita ecco la più piccola aveva 3 anni Angela Freso il più grande ne aveva 86 in mezzo il mondo intorno a queste persone c'erano delle famiglie dei parenti degli amici dei soccorritori tutta gente che a distanza di 43 anni questo dolore ce l'ha dentro perché è indelebile credetemi è indelebile io nel mio libro l'ho soprannominato il mostro nero dentro di me con cui io ho vissuto 25 anni subendolo e dopo 25 anni mi sono confrontata con lui ce l'ho dentro ancora perché tutti i giorni comunque mi devo svegliare mi sveglio il mattino e devo intanto capire come sono messa quel mattino però adesso siamo in due primari da solo adesso siamo in due tutte le mattine a Bologna le persone che erano partite sono rientrate le persone che erano gemercate sono entrate hanno aperto i negozi hanno messo a disposizione dei vestiti a chi magari era rimasto leggermente ferito ma sanguinante hanno messo a disposizione gli occhiali a chi aveva perso gli occhiali hanno messo a disposizione dei letti a dei familiari che erano venuti a Bologna di cercare i propri cari perché poi una volta non esistevano i cellulari per cui tipo i miei genitori che erano in Val Gardena loro hanno saputo alle 12 e mezza era già successo da due ore sapevano di avere una figlia a Bologna di 11 anni ma non sapevano dove era quella figlia perché come ho detto potevo essere in stazione cioè potevo essere in sala d'attesa potevo essere al sedicesimo binario potevo essere sulla montagnola potevo anche essere in piazza maggiore loro non sapevano dove era quindi loro sono partiti mio papà è partito alla cieca alla mia ricerca perché una volta queste cose non c'erano hanno cioè la nostra la nostra storica la nostra ciencia che poi non è lei è agile che lo racconta è arrivata una nonnina una signora anziana con una boccettina d'alco e di batuffoli di cotone lei voleva aiutare e lei pensava poverina di poter disinfettare no? per cui tutti si sono messi a disposizione a Bologna e poi un'altra cosa importante pochi sanno che il coordinamento spontaneo nato fra i cittadini per soccorrere si è poi trasformato in 118 negli anni il 118 è nato a seguito della strage di Bologna ecco quindi voglio dire poi vabbè il secondo motivo per cui sono qui che racconto la mia storia e la racconto con le mie gambe è perché quella notte del 2 agosto mi hanno operato al Sant'Orso del Bologna un'operazione che è durata 8 ore la prima di tutta una serie oltre 30 ma sono queste due le due cose che secondo me c'è veramente per cui posso essere qui a raccontare la mia storia riceviamo questi momenti di condivisione importantissimi e anche comprendendo quanto sia importante la solidarietà cittadina ritorno ad Alex con una immagine che è quella dedica ben tre pagine a un dialogo fra Licio Gelli non l'abbiamo ancora parlato ma probabilmente dovremmo parlarne un po' di più forse forse è una serata politica probabilmente avremmo già iniziato con Licio Gelli prima invece è una serata anche e soprattutto di testimonianza sono tre pagine quindi nell'economia del fumetto sono tante pagine e sono tre pagine in cui Licio Gelli nella sua base l'Hotel Excelsior di Roma discute usiamo questa parola in realtà comanda ordina a un a un funzionario delle SISDE quello che deve essere la via investigativa quindi magari ci vuoi dire se è frutto di una tua fantasia o se è frutto di elementi storici ma giustamente come diceva lui l'elemento fumetto dà delle possibilità che la narrazione di un libro non dà quindi questo funzionario a un certo punto al volto del funzionario diventa una tessera della P2 col suo bel numero proprio come rimarcare il fatto di questa loggia che in quegli anni ha tessuto una rete ciascuno individuabile con una tessera molte persone importanti adesso non stiamo a citare le più importanti mi piacerebbe ma lasciamo stare molte le hanno citate i giudici i giudici quindi c'è bisogno della nostra fantasia tanti personaggi però su alcuni insisti di più e soprattutto visto che come dicevi un fumetto datato su quali avresti voluto raccontare un po' di più e su quali magari ci sei soffermato troppo su questo liceogelli beh almeno ancora adesso sono convinto che mi sono soffermato il tempo giusto per non interrompere il flusso della narrazione insomma però liceogelli innanzitutto ha avuto una condanna è passata in giudicato quindi insomma che abbia preso dieci anni per reato di depistaggio che peraltro allora non c'era quindi attraverso un escamotaggio in qualche modo però dieci anni per questa cosa qua è un fatto oggettivo quindi diciamo che nulla è frutto della mia fantasia in questo libro anche perché penso che la mia fantasia non arriverebbe comunque a tanto la realtà spesso supera ogni fantasia più perversa possibile in questo caso diciamo che così così è accaduto allora liceogelli allora qua siamo un po' abituati a dare dei volti dei nomi perché c'è un po' la tendenza alla ricerca del colpevole no? siamo tutti figli un po' di Agatha Christie e di capire chi è il colpevole che faccia e perché l'ha fatto no? fondamentalmente il problema però in questo caso ecco è complesso e non complicato perché c'è Carlo Lucarelli che spesso fa questo esempio ormai lo facciamo a tanto tempo che non mi ricordo chi dei due l'ha iniziato a fare però è questa cosa che se un diciamo una figura apicale un grandissimo capo dice generale magari dice alla persona subito sotto di lui questo Giovanni mi dà fastidio se questo sotto generale dice a quello sotto di lui Giovanni dà fastidio e quello dopo dice a quello sotto di lui questo Giovanni deve smetterla e quello sotto dice a quello sotto di lui facciamo che smette Giovanni e quello sotto dice a quello sotto di lui fallo smettere e quello sotto ancora lo uccide di che è stata la colpa no? allora questa è la complessità da raccontare questo è il meccanismo che non è ancora mai stato scardinato no usate la semplificazione di un ragionamento che probabilmente richiederebbe molto più tempo però il fatto è che prima avevamo degli strumenti per applicare questo sistema di potere e che era quelli del terrorismo no? l'abbiamo raccontato prima ma oggi dopo tanti anni gli strumenti non sono più quelli ma il meccanismo c'è ancora ed è esattamente questo il motivo per cui ancora qualcuno cerca di alzare polveroni attorno alle vicende giudiziarie perché il problema vero non è capire chi è stato cioè o non è solo capire chi è stato l'esecutore materiale ma attraverso questo è capire quella che è l'organizzazione che arriva a quell'ultimo anello di cui vi parlavo prima con un esempio senza nomi e cognomi perché questo è un meccanismo che c'è già e adesso magari come strumenti si utilizzano i dossier le infamie i sistemi di potere all'interno del meccanismo mediatico che infangono una persona la istigono addirittura a volte al suicidio o comunque all'oblio totale insomma sono altri gli strumenti ma non possiamo continuare a concentrarci solo sugli strumenti senza avere una visione un po' più d'insieme di quello che è il potere allora mi ricordo durante una presentazione in Veneto direi che quando si parlava di servizi segreti deviati si alzò una persona anziana molto anziana nella sala e disse ma quali servizi deviati? quali servizi deviati? i servizi segreti sono deviati sono segreti? beh se non dovessero se avessero niente da nascondere non sarebbero servizi segreti no? allora lì c'è stato un ragionamento che fa Carlo appunto nel podcast che è molto interessante ma cosa vuol dire parlare di servizi deviati? allora se abbiamo dieci persone all'interno del SISDE per dire servizi segreti diciamo civili di polizia non militari SISDE abbiamo uno o due persone che fanno un doppio gioco e cercano di portare a casa per interessi personali qualche cosa attivando appunto meccanismi di doppio giochismo i servizi segreti non sono deviati cioè almeno l'ottanta per cento non lo è ci sono delle mele marce allora si va a indagare su quelle persone c'è una responsabilità diretta su quelle persone ma se il servizio segreto vede che due persone continuano a mantenere intatto la loro dignità professionale e non subiscono diciamo così certe pressioni ma le altre otto sì allora parliamo di servizi segreti deviati questa è stata la risposta quando parliamo di servizi segreti deviati quindi stiamo parlando di un sistema non stiamo parlando di qualche mela marcia messa in posizione strategica all'interno di un'organizzazione ampia e questo è quello che secondo me bisognerebbe bisognerebbe capire quindi rispondo alla tua domanda Licio Gelli certo Licio Gelli probabilmente è anzi certamente la figura apicale di una gestione del potere che dal dopoguerra in poi ha dovuto comunque passare dalle sue volontà ma soprattutto dai suoi soldi perché ricordiamoci un'altra cosa e banalizzo la strage di Bologna è una vicenda umana tragica storica ma una vicenda fortemente economica i soldi che Licio Gelli è riuscito a procurarsi per pagare tutte le persone che come vi dicevo in qualche modo sono coinvolti in questo sistema sono tantissimi il famoso la famosa valigia nera eccetera eccetera il dossier Bologna e via e via e via che andare cioè parliamo di una quantità di soldi inimmaginabili che non puoi di cui non puoi disporre se chiaramente non hai degli appoggi che queste risorse ti consentono di averle è chiaro che non stiamo parlando solo di un atto criminale ma di un sistema a questo punto enormemente ampio ed è chiaro anche allo stesso modo che una cosa così grande è difficile che rientri tutta nel fumetto ma il fumetto può aprire delle piste di riflessione su queste robe qua può scardinare il meccanismo per esempio della semplificazione giornalistica queste cose possono succedere anche con un fumetto o un libro di testimonianza che parte dal piccolo per arrivare al grande ecco la la vicenda di Sonia 25 anni dalla strage questo dolore prima fisico poi superato che diventa anche un dolore interiore come l'ha descritto bene e poi a un certo punto la presa di coscienza di consapevolezza che la propria esperienza la propria testimonianza possa essere utile a fare luce su una vicenda giudiziaria ma a essere stimolo di impegno civile verso le scuole verso la cittadinanza quindi arriva il momento della scelta di ritrovare la la comunità delle vittime ben rappresentata dall'associazione fra i familiari delle vittime che è il primo caso di associazione tra i familiari delle vittime poi successivamente si costituiranno anche quelle che avevano le memorie delle stragi passate dell'italicus e quant'altro e quindi decide consapevolmente di fare questo passaggio di presa di coscienza e di inizio della testimonianza verso il pubblico quindi nel 2005 c'è la prima volta che Sonia arriva il 2 agosto a Bologna partecipa alla cerimonia ufficiale un momento evidentemente emozionante e dire poco si rivede la propria vita si rivedono tante cose anche persone che appunto si sono incontrate in quei momenti drammatici e che hanno cambiato il corso della propria vita tre soccorritori tra i feriti tre sopravvissuti perché appunto la dicitura giusta è sopravvissuto e quindi la consapevolezza di voler ridare alla comunità questa testimonianza civica ecco se vuoi raccontarci quello che fa l'associazione penso che sia veramente una cosa straordinaria l'impegno sia per la capacità di testimonianza verso le scuole ma anche per la vicenda giudiziaria se non fosse stato per l'associazione probabilmente alcune cose non sarebbero emerse allora sì intanto appunto partiamo dal fatto che l'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna è stata la prima associazione che si è costituita a seguito di una strage in Italia è stata costituita esattamente il primo giugno del 1981 per volere di alcuni familiari e sopravvissuti ma soprattutto familiari per ottenere quella verità e giustizia che le altre stragi non avevano ancora ottenuto e non è facile entrare in questa consapevolezza perché quando torniamo al al dolore quando ti succede una cosa così grossa così ingiusta così senza senso l'avere l'avere anche la capacità e la ragione di pensare dobbiamo fare qualcosa in quel momento non è semplice probabilmente quello che è successo nelle stragi precedenti e quindi si mettono insieme alcuni io ovviamente 9 e 11 anni si mettono insieme alcuni familiari decino di costituire questa associazione con l'obiettivo principale di ottenere in tutti i modi giustizia e verità all'inizio l'associazione oltre che prendersi questo grandissimo impegno quindi vuol dire assistere a tutto il percorso giudiziario dei primi anni dei primi processi dove devo dire ho avuto anche il sostegno anche qui dei bolognesi cioè i bolognesi facevano la turno per andare alle udienze si mettevano d'accordo per andare alle udienze oltre al fatto di aver sempre una delegazione dell'associazione poi l'associazione cosa era stata l'associazione era un punto di riferimento per i familiari i familiari e i sopravvissuti avevano bisogno di un punto di riferimento dove appoggiarsi dove chiedere dove fare ma anche per poter non so curarsi diciamo oltre che avere un appoggio economico perché l'associazione dava anche questo grazie alla raccolta fondi che erano stati fatti al resto del carlino i cittadini di bologna e via dicendo avevano bisogno di una nicchia dove però non veniva mai parlato cioè noi che facciamo parte dell'associazione noi non ci siamo mai incontrati a dire ah ma noi siamo qui perché tu a te è successo questo non abbiamo mai le nostre storie che noi conosciamo ormai a memoria è perché le abbiamo sentite durante i nostri progetti di cittadinanza durante i nostri progetti nelle scuole durante le nostre serate e poi una volta che diciamo queste a parte la parte giudiziale che è proprio grazie all'associazione se siamo stati se si è aperto un processo contro la prima volta in Italia contro mandanti finanziatori perché la resistenza la costanza la determinazione dell'associazione il fatto di voler far digitalizzare tutti quei domicumenti di tutte quelle strage che c'erano state ha fatto sì che si sia potuto creare questa rete questo intreccio mentre una volta prendiamo un liceo geli a caso era stato condannato che ne so io per un processo tu avevi le carte di quel processo e finiva lì adesso se invece perché lui è stato coinvolto lì lui conosceva Tizio conosceva Caio e si è creata questa rete e grazie a questo l'associazione è stata in grado di creare un dossier che ha consegnato intanto al nostro pool di avvocati poi da cui siamo andati alla procura generale e abbiamo potuto partire siamo potuti portare in questo processo poi una volta che le persone tra virgolette mi viene a dire perché non si guarisce mai stavano meglio l'associazione ha iniziato ad impegnarsi in progetti di cittadinanza e di memoria e lo fa con tantissime cose lo fa con testimonianze nelle scuole progetti nelle scuole mostre fotografiche libri lo fa con documentari lo fa con concorsi di musica internazionali lo fa e noi penso di parlare per noi che facciamo questo lavoro è proprio anche secondo me una responsabilità è un dovere civile per cui noi facciamo questo per noi non è facile ma è giusto e un'altra cosa che mi viene in mente è questa organizzazione di staffette poedistiche che partono da diversi punti d'Italia la prima anche questa nel 1981 quattro marciatori che sono partiti da Sesto Fiorentini per arrivare il 2 agosto 1981 a Bologna a piedi si è espansa in tutta Italia tanto da muovere migliaia di persone e quando una persona che non c'entra niente con il 2 agosto 1980 perché non è stata coinvolta non ha nessuno che c'è corre con 40 gradi all'ombra 45 gradi all'ombra sull'asfalto per ricordare quelle 85 persone a cui è stato tolto il diritto di vita dopo 43 anni significa che comunque i cittadini i bolognesi italiani vogliono ricordare non vogliono dimenticare e soprattutto probabilmente non vogliono essere investiti dai dipistaggi diciamo che i tempi tecnici credo Mario ci chiedano di chiudere chiederei di cambiare la slide come dicevo 85 nomi sono tanti non li leggeremo però abbiamo voluto creare questa cartina per far vedere come tutta l'Italia sia stata investita dalla da questi da questi lutti drammatici senza contare i feriti lei è del Trentino Alto Adige e per chiudere abbiamo pensato di leggere una parte del discorso di Paolo Bolognesi in occasione del 25esimo anniversario della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna quindi nel 2005 quando per la prima volta Sonia ha partecipato alla commemorazione ufficiale poi dopo aver letto veramente chiedo un applauso ai due ospiti e alla commemorazione e poi chi avesse domande alla al posto dove si vendono i due libri ovviamente i due autori saranno anche disponibili magari a rispondere 25 anni fa il 2 agosto 1980 in questa stazione in un sabato di sole in cui una miriade di cittadini erano intenti a vivere un normale giorno d'estate una bomba collocata da terroristi fascisti causò una strage 85 morti e 200 feriti mani fasciste poi coperte dai vertici della loggia massonica P2 causarono morte terrore e distruzione tante vite travolte tanti sogni spezzati tante speranze svanite in un attimo la più grande strage italiana in tempo di pace voluta e attuata per colpire ancora una volta una città simbolo la nostra Bologna Bologna come l'Italia intera seppe reagire all'orrore del terrorismo fascista quel giorno tutti hanno fatto con dignità la loro parte per limitare il numero dei morti perché i feriti fossero subito curati perché i parenti fossero tutti informati al più presto questo straordinario senso civico nel corso degli anni non è mai venuto meno sostenendoci sempre anche nei momenti più difficili durante i processi quando menzogne depistaggi e delegittime azioni tentavano in ogni modo di allontanare la verità e di capire mandanti ed esecutori dell'attentato nel manifesto di quest'anno abbiamo scritto i familiari delle vittime impediscono con le armi della verità e della giustizia la riscrittura della storia l'occultuamento della verità sulle stragi la liquidazione della memoria un grosso applauso a tutti veramente grazie a tutti grazie a tutti